Nella mattinata odierna i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, all'estito di un'indagine coordinata dalla seconda sezione della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e messa dal GIP presso il Tribunale di Napoli nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati di aver costituito un'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in danno dello Stato mediante creazione di crediti di imposta fittizi per oltre 600.000 euro derivanti dal CD bonus facciate. Contestualmente è stato disposto il sequestro dei crediti fittizi e del profitto del reato a carico dei presunti autori della frode per un importo complessivamente superiore a 650.000 euro. In particolare, secondo quanto emerso dalle attività di indagine, un amministratore di condomini operante nel napoletano unitamente ad altri soggetti avrebbero creato sulla base di lavori di ristrutturazione e di rifacimento facciate in realtà mai eseguiti un sistema di fittizi crediti di imposta in capo a condomini dei vari stabili amministrati, che poi sarebbero stati ceduti agli indagati o a società ai medesimi riconducibili. Tali fittizi crediti di imposta sarebbero stati in parte convertiti in denaro attraverso la cessione ad operatori finanziari ed in parte utilizzati per l'indebite compensazione di imposta con corrispondente danno per l'erario.